Buongiorno, sono Matteo, il responsabile sviluppo e produzione degli occhiali sportivi Bertoni Heigler. Oggi vi presentiamo il modello AF366. Questo prodotto è realizzato in nylon mesh, un polimero molto resistente agli urti, flessibile e morbido. È adatto a tutte le condizioni, dalle alte temperature estive al freddo pungente in inverno. Le astine sono facilmente intercambiabili con un elastico per aumentare l'aderenza ed il comfort, trasformando questi occhiali in una vera e propria mascherina. Le astine morbide e sottili sono studiate per agevolare la calzata con qualsiasi tipologia di casco. Per questo prodotto è disponibile il supporto ottico per lenti oftalmiche. Grazie a tutti!